ma vi altri ne ho mai pa' strada la via a patente o un motorino no perché a me mi sembra che pa' strada non che sia più uomini e che sia solo che pressa e non solo che hai 8 mancaventi quando sei in ritardo parlare in ufficio a tutte ore del di e tutti i di te stimana te monti in macchina te vai pa' strada e cominciai i sorpassi da crimine a destra sinistra so ora sotto dappertutto mo è che abbaucotti non si chiedevi sempre a femmina insinta di ospettarvi in ospedale